Le 10 regole per scegliere un buon fotografo E questo è un argomento davvero di quelli pesanti Allora, la prima cosa che vi suggerisco è che il fotografo non vi stia antipatico Perché comunque dovete trascorrere gran parte della giornata con lui vicino Il fotografo è quello che vi segue per fotografarvi E quello anche che vi suggerisce dove mettervi, dove posizionarvi per cercare di tirare al meglio le foto E' quello che entra nei momenti anche se vogliamo un pochettino più riservati Perché a casa della sposa, a casa dello sposo, quindi anche con i familiari, con i parenti In un momento così caldo diciamo Quindi sceglietevi un fotografo con il quale legate anche un po' Perché comunque quel minimo di confidenza deve venirsi a creare Diversificare tutte le ambientazioni Per avere un album fotografico che sia vario, che sia bello da sfogliare Che sia gustoso non solo per voi che siete i protagonisti Non solo per i vostri genitori che vi hanno messo al mondo e che vi guardano con un occhio particolare Ma anche per chi ha il piacere di sfogliarlo e di vedere delle foto volta per volta diverse Quindi un buon fotografo deve anche sapervi consigliare nelle varie scene Cioè essere parte attiva nel guidarvi, nel trovare delle situazioni di luce Dei momenti belli da fotografare per rendere un album davvero vario E quindi non soltanto le 10 foto a casa, 10 foto in chiesa e un po' di foto al ristorante Abbiamo finito lì, no, cerchiamo di renderlo molto più attivo questo album Un buon fotografo deve anche cercare di lavorare con più obiettivi fotografici Perché? Perché ogni obiettivo è specializzato a fare qualcosa E allora è bene avere un obiettivo per il ritratto, quindi un medio tele È bene avere un grandangolare per riprendere la scena in tutto il suo contesto Oppure per riprendere anche i gruppi, quelli numerosi, come all'uscita della chiesa È bene avere anche un obiettivo di quelli molto luminosi, per esempio Per utilizzare il meno possibile il flash che comunque ha un impatto non proprio buono Diciamo sulle luci di una fotografia Quindi la varietà deve esserci e soprattutto da parte del fotografo Deve essere presente quella reattività, quella prontezza dei riflessi Di avere una fotocamera sempre pronta per poter riprendere anche quelle scene Per così dire irripetibili che si chiamano proprio istantanee per questo motivo Quindi un album ancora una volta verrà arricchito anche da questi scatti Che sono un po' diversi nella loro composizione piuttosto che nella loro ambientazione Inoltre un buon fotografo deve anche sapervi consigliare nella post-produzione Cioè è vero che la scelta delle fotografie le fate voi Anche se una volta i fotografi tendevano a dare a voi le foto che loro professionalmente selezionavano Oggi come oggi la scelta la fate voi Quindi scegliete voi quali inserire nel progetto Però è chiaro che il fotografo invece deve darvi delle indicazioni molto chiare e pertinenti Perché sono indicazioni tecniche sulle fotografie Se è il caso di, non so, fare un viraggio in bianco e nero Una desaturazione oppure vivacizzare il colore Oppure ritagliare un pochettino, si dice croppare la fotografia Oppure sostituirne una con un'altra Perché è più opportuno per i motivi che insomma un fotografo vi spiegherà Poi un'altra questione che il fotografo deve certamente saper padroneggiare È quella della stampa e della carta fotografica Perché a seconda del progetto che scegliate, a seconda dei vostri gusti Ci sono carte fotografiche che rispondono meglio per un tipo di visione rispetto che un'altra Poi un altro consiglio che vi do sempre in queste dieci regole Di mettersi d'accordo subito su quello che succederà nel servizio fotografico Se ci sono dei momenti salienti che vi preme vengano fotografati E che magari come consuetudine non sono così determinanti in un servizio fotografico Così come mettersi d'accordo per esempio su un punto cruciale Che è quello della consegna dei negativi La consegna dei negativi originali o dei file originali Visto che parliamo di macchine digitali Lo concordate in fase preliminare in modo che poi non ci siano sorprese Un altro punto a favore di un buon fotografo è quello di avere una chiarezza nel contratto Nei termini e cioè sapervi dire cosa fa, cosa rientra nelle sue mansioni E cosa andrà a fare senza insomma tenere tutto in maniera un po' fumosa E poi vabbè ci accordiamo, vediamo come Questo serve sempre per evitare delle sorprese Un altro punto sempre a favore del fotografo che andrete a scegliere Potrebbe essere quello che disponga di un team Di un team fotografico Nel caso vogliate oltre alle foto anche il video Nel caso vogliate oltre al video avere Non so, un servizio anche a casa dello sposo Oltre che a quello a casa della sposa Quindi che abbia delle persone di fiducia con le quale è già molto ben affiatato In modo che il team lavori in sincronia e non ci siano troppe differenze Tra le foto scattate da uno e da quell'altro Cioè lo studio deve essere uno Quello che poi ottimizza, bilancia e profila le foto Non per ultimo che disponga di un parco ottiche Decisamente adeguato alla ripresa di un matrimonio Questo è un aspetto che è difficile da valutare per una persona che non è un addetto ai lavori Però quantomeno se il fotografo è un fotografo che si presenta con una borsa Con più fotocamere, più obiettivi E' più facile che riesca ad ottenere degli scatti appropriati Piuttosto che presentarsi con una piccola macchina fotografica Magari nemmeno reflex E fare tutto con quello Ahimè succede anche questo E quindi tenetelo un po' come un parametro discriminatorio Fra quello che può essere un buon lavoro E un lavoro fatto, insomma, così, sopra le righe Grazie 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 Grazie